Ripresi i lavori sulla variante della strada regionale 69 del Valdarno con l'obiettivo di concluderne una buona parte entro il 30 settembre, completamente entro la fine dell'anno, per far questo la provincia ha preso importanti provvedimenti che hanno sbloccato una situazione di stallo, ascoltiamo in proposito il presidente della provincia Roberto Vasai. Il 30 giugno era una data che non me l'era inventata io, era il RUP, l'intesa con responsabile unico del procedimento, con l'impresa che mi aveva detto questa data, sono sopraggiunti problemi nei rapporti fra di loro e per ovviare a questa situazione di impasse, la giunta ha ritenuto opportuno andare verso la nomina di un nuovo RUP e far riverificare attraverso una commissione di esperti nominata dalla provincia, dall'impresa e uno comune per verificare queste riserve che l'impresa ha presentato, se sono ammissibili o no e il quantitativo delle stesse. Il responsabile unico del procedimento, che è un interno, l'ingegner Tiezzi, che ha un'esperienza anche di RUP in varie opere, ci ha detto, d'accordo con l'azienda, che entro settembre dovremmo completare l'opera fino alle coste, cioè fino al ponte di Mucarini. Per quanto riguarda la parte successiva, sembra che entro l'anno dovrebbe essere completata tutta l'opera. Insomma, la legge sugli appalti, l'abbiamo visto anche le ultime vicende, io credo è innegabile, va rivista. Va rivista anche questa vicenda delle riserve che mette continuamente l'appaltante nelle condizioni di dover trovare delle mediazioni e verifiche. Noi le abbiamo trovate attraverso una commissione di alti tecnici che ci devono dire il quantitativo. Sicuramente io credo che vada rivista e rivista bene. Grazie. Grazie.